Ora possiamo accanto alla nostra del prossimo coloro che va a fare il penale di la vena massima Oranone, Oranone da Fomaro Alessiane, Alessiane Siamo sempre in paretà, su tre rigoni calzati, due gol per parte A chi tocca con il cappellini con Bernardetti Il numero 20 dell'Italia è stato proprio il secondo supplementare per sostituire l'effettomato Federico Chieda Io ho il centro anche sulla panchina dell'Italia Come si stanno vedendo questi l'erimacini che parla con i fogli Come si stanno vedendo questi l'erimacini che parla con i fogli Come si stanno vedendo questi l'erimacini che parla con i fogli Mette il pallone a terra, Giorginio Mette il pallone a terra, Giorginio Giorginio mette il pallone a terra Si è giusto ai gassettoni, Giorginio Si è giusto ai gassettoni, Giorginio Per me la sua ricorsa per oggi Per me la sua ricorsa anche lui Dall'inizio del mondo Mette il pallone a terra Giorgi è giusto ai gassettoni, Giorginio Come si stanno vedendo questi lulli Grazie. Grazie.